sono felice di aver pubblicato in coedizione con ex libris di palermo dio non sa di alessio rena si tratta di un progetto poetico molto interessante dove l'io poetico di alessio rena non riesce a trovare pace e interroga continua a chiedersi a chiedere il perché di tutte queste cicatrici che la realtà ci regala il perché di tutte queste ascese e profonde cadute improvvise ci chiede e continua a chiederci come lettori se abbiamo una qualche risposta da dare se anche noi affidandoci a dio spesso ci chiediamo come mai la realtà che dio ci ha regalato piena anche di miserie in fondo non sia che un disegno appartenente a qualcuno qualcosa che è lontano anni siderali anni siderali da noi adesso non risponde esattamente ma ci dice che il più delle volte forse diventeremo più leggeri abbandonando ogni superstizione grazie a tutti grazie a tutti